Se avete guardato uno dei video del nostro canale, saprete che la consanguineità nelle famiglie reali era vista come un modo per mantenere la purezza genetica. I matrimoni tra famiglie nobili assicuravano che nessun gene comune contaminasse le linee di sangue pure e aristocratiche. Cosa potrebbe mai andare storto? Sebbene tutte queste famiglie si aspettassero che i matrimoni stretti mantenessero più forti le loro famiglie reali, in molti casi le malattie, la pazzia e l'infertilità dovute alla consanguineità finirono per indebolirle. Questo video vi mostrerà cinque monarchi che presentavano difetti e mutazioni causati dalla consanguineità. Cominciamo con un esempio ovvio, il re spagnolo Carlo II, l'ultimo della linea degli Asburgo. Frutto di una lunga discendenza asburgica, Carlo II, soprannominato lo stregato, soffre di problemi congeniti fin dalla nascita. La sua famiglia era in crisi quando si trattava di consanguineità. Carlo era cugino di primo grado di sua madre e pronipote di suo padre. Sua nonna era anche sua zia, quindi il suo intero albergo genealogico derivava da un'unica coppia, Filippo e Giovanna di Castiglia. Carlo II era noto per avere la cosiddetta mascella asburgica o labbro asburgico, caratterizzata da una lingua troppo grande, un morso profondo, una mascella inferiore sporgente e un labbro inferiore ruvido. La deformità è tecnicamente nota come prognatismo mandibolare. La lingua rendeva difficile la masticazione e provocava un'eccessiva salivazione, per cui spesso stava con la bocca semiaperta e sbavava continuamente. Ha avuto anche uno sviluppo lento, avendo difficoltà a parlare anche da adulto. Fu allattato al seno fino all'età di cinque anni e non ebbe mai un'istruzione formale. Era anche sessualmente impotente e la sua incapacità di procreare pose fine al dominio degli asburgo sulla corona spagnola quando il re morì nel 1700. Alexei Nikolaevich, l'unico figlio maschio dell'ultimo zar Nikola II, ha ereditato una malattia genetica chiamata emofilia ed è il prossimo della lista. La sua emofilia ha contribuito alla caduta della dinastia imperiale russa nel 1917. Sebbene nessuno dei membri della casata russa dei Romanov fosse emofiliaco, una malattia genetica potenzialmente fatale in cui il sangue non coagula normalmente, il padre di Alessio, lo zar Nikola II, era sposato con Alexandra Feodorovna, nipote della regina britannica Vittoria. Si pensa che la stessa regina Vittoria abbia trasmesso l'emofilia alle monarchie europee. Era una portatrice che ha trasmesso la malattia alla madre della zarina. Tuttavia la malattia non si manifesta nelle donne, ma solo negli uomini, quindi il principe Alessio ha ereditato la malattia dalla madre. Disperata per salvare la vita del figlio, Alexandra cercò l'intervento mistico di Gregory Rasputin, un monaco che professava di avere poteri divini. L'aver invitato un uomo libidinoso come Rasputin, noto per il suo gusto per l'alcol e per ogni tipo di amante, non era gradito all'aristocrazia, ma i governanti russi si convinsero che le cure di Rasputin erano efficaci per salvare il figlio. Il mistico Rasputin crebbe in influenza a corte, esercitando un potere sempre maggiore sulla vita reale e governando la Russia a porte chiuse. Il disordine nella casa reale e la dubbia compagnia dei sovrani contribuirono alla rivoluzione russa del 1917 e, di conseguenza, alla messa a morte dell'intera famiglia reale. Torniamo indietro nel tempo per parlare del faraone Tutankhamon, meglio conosciuto come Thut. Nonostante sia molto famoso, Tutankhamon ebbe un regno davvero breve. Gli esami del DNA sul corpo mummificato del re Thut rivelano che questo sovrano egiziano del 1300 a.C., circa, era in realtà un disadattato genetico dal corpo debole a causa della tradizione reale egiziana di sposare fratelli e sorelle. Il re Tutankhamon salì al trono all'età di 9 anni e sopravvisse solo fino all'età di 19 anni. Probabilmente aveva una paratoschisi, piedi storti e scoliosi, oltre a un cranio allungato e deforme. La prima volta che il corpo del faraone bambino è stato sottoposto a un processo di scansione digitale è stato nel gennaio 2005, quando la mummia è stata estratta dal sarcofago e trascritta utilizzando 1700 immagini di un'attacca. L'indagine si è concentrata sulla comprensione delle probabili cause della morte di Tut. L'attacca effettuata ha rivelato che il faraone aveva subito una ferita alla gamba pochi giorni prima della sua morte. La teoria possibile per la sua morte è che potrebbe aver avuto complicazioni infettive generate da una ferita alla gamba durante una sessione di caccia che gli ha fatto contrarre la malaria. L'altra teoria è che Tutankhamon sia morto per un'infezione alla gamba in seguito a un grave incidente con il carro. Ma c'è ancora molto da studiare su questo argomento che non è ancora stato risolto. In questo momento non possiamo determinare come Tutankhamon sia morto. È possibile che ciò che lo ha ucciso non abbia lasciato tracce. Una cosa è chiara. In giovane età ebbe diversi problemi causati da malattie genetiche. Per il nostro secondo spot parleremo di Re Giorgio III d'Inghilterra, conosciuto come il Re Folle. Con un regno notoriamente funestato dalla perdita della rivoluzione americana, Re Giorgio III aveva probabilmente una malattia genetica che influiva sulla sua mente più visibilmente che sul suo corpo. Si ritiene che soffrisse di porfiria, una malattia che rende l'urina del paziente di colore blu-violaceo e che porta ad attacchi di follia, sebbene anche l'abbelenamento da arsenico e il disturbo bipolare siano stati suggeriti come probabili cause. Giorgio III disertava regolarmente i suoi doveri reali per ritirarsi in isolamento e curarsi a Kew Palace. Era incline a delirie per tutta la vita, fu sottoposto a trattamenti estremi, tra cui camicie di forza, sanguisughe e bagni di ghiaccio per calmarlo. I test medici contemporanei dimostrano che la porfiria era un fenomeno comune nella casa di Hannover, altamente allevata, a cui apparteneva re Giorgio III. Trascorse l'ultimo decennio del suo regno in clandestinità e alla fine perse la vista eludito, morendo il 29 gennaio 1820. Per completare la nostra lista, arriviamo ora a Ludovico II di Baviera. Proprio come sua cugina, l'imperatrice d'Austria, il re Ludovico II di Baviera faceva parte dell'antica dinastia dei Wittelsbach. Per generazioni la famiglia aveva praticato la consanguineità e i suoi effetti stavano lasciando il segno. Ludwig era noto per essere fuori dal contatto con la realtà, ma scelse di vivere in una fantasia di sua creazione, cosa che sarebbe andata bene se non fosse stato un re con un lavoro da fare. Mentre lui costruiva castelli e navigava su barche a forma di cigno, il governo bavarese si strappava i capelli per l'inettitudine e la dissolutezza del suo re. Nato nel 1845, trascorse l'infanzia travestendosi, recitando e isolandosi dal resto del mondo. Divenne re a 18 anni, senza alcuna formazione o esperienza formale, ed evitò la sua posizione di capo di Stato per il resto della sua vita. Il contributo più duraturo di re Ludwig II alla storia del mondo è forse la costruzione di Neuschwanstein, il castello tedesco che ha ispirato i progetti di Walt Disney per i castelli di Cenerentola e della Bella Addormentata. Luigi ha profuso tutte le entrate reali in questi progetti, indebitandosi pesantemente e ignorando tutti i tentativi dei suoi ministri di ostacolarlo. Tutto ciò fu poi usato contro di lui per farlo dichiarare pazzo e deporre. Fu trovato morto in circostanze inquietanti il giorno dopo il suo arresto, insieme allo psichiatra che lo aveva dichiarato pazzo. La sua morte è tuttora considerata molto sospetta. Oggi avremo un bonus. Parleremo di Ferdinando I d'Austria, che soffrì di una serie di disturbi mentali e fisici ma regnò per 13 anni. Ferdinando era il figlio maggiore dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Francesco II, poi Francesco primo d'Austria, e di Maria Teresa di Napoli e Sicilia. A causa della vicinanza genetica dei genitori, erano cugini di primo grado, Ferdinando era affetto da epilessia, idrocefalo e problemi neurologici. Era nato nel 1793 e siccome la miseria ama la compagnia, aveva anche la mascella asburgica e una lingua troppo grande per la sua bocca, mentre il suo corpo era troppo piccolo per la sua testa. Ciò nonostante regnò tra il 1835 e il 1848. Nel dicembre del 1848, a causa delle rivoluzioni liberali, Ferdinando rinunciò a governare in favore del nipote Francesco Giuseppe I. Andò a vivere nel castello di Praga fino alla morte, avvenuta a 82 anni, nel 1875. Nel dicembre del 1848, a causa delle rivoluzioni liberali, Ferdinando rinunciò a governare in l'ambiente, Ferdinando rinunciò a governare in l'ambiente, Ferdinando rinunciò a governare in l'ambiente,